Hai notato alcuna differenza in Sicilia in termini di corruzione negli ultimi 10-20 anni? Hai notato alcuna differenza della corruzione in Sicilia negli ultimi 10 anni? Secondo me il nord dell'Italia ha sempre pensato di essere il migliore, anche perché hanno avuto tanto supporto dal governo italiano. Adesso, secondo me, oggigiorno il sud e il nord sono uguali. La corruzione non è come la prima, la mafia siciliana. Adesso la mafia è la corruzione dappertutto, anche al nord. La corruzione è proprio nel governo, oggigiorno. I nord italiani credo che avrebbero avuto molto supporto dal Stato. E oggi non c'è la mafia siciliana come c'è avuto prima. Il nord e il sud sono le stesse. Adesso, la mafia è la mafia, è in il governo.